Ormai siamo alla non edizione, devo dire che questa camminata coinvolge tutta la Val del Riso ma non solo perché vengono anche dai paesi limitrofi e anche da paesi lontani e questa camminata è a scopo missionario, perciò tutto quello che sarà il ricavato verrà devoluto in particolare a un progetto di Adriana Valle, lei che è una focolarina in Brasile dove si intende con il ricavato sistemare alcune aule che servono sia per la catechesi, sia per il gioco, per lo svago perciò tutto andrà devoluto a lei Adriana Valle che lei è nativa di Zambla Alta e tra l'altro l'arrivo è proprio vicino alla sua casa potremmo dire perché è su al colle di Zambla l'arrivo di questa camminata mentre la partenza sarà giù a Piazza Riso, perciò potremmo dire che si parte dal fondo della Valle del Riso e si arriva su al colle di Zambla, sono quasi 13 chilometri, c'è un certo dislivello perché è abbastanza impegnativa la salita anche, però vedo che la fanno tutti volentieri, ognuno come può, chi cammina, chi corre chi lo prende così come un pomeriggio di svago, di condivisione ma poi oltre a quelli che partecipano, che solitamente si arriva su un numero di 300 persone quelli che effettivamente fanno il cammino iscritti però siamo arrivati, non so quest'anno a quanto arriveremo ma penso che 1.400 iscritti potremmo arrivarsi, forse anche di più e la bellezza comunque di questa camminata è il coinvolgimento di tutte e quattro le comunità nostre anche nell'organizzazione direi, perché tutti i gruppi caritativi sono coinvolti direi a capofila di questi gruppi ci sono i gruppi missionari di Gorno e di Oneta però poi c'è la Caritas e altri gruppi, l'Avis Aido, tutti questi gruppi che partecipano e si coinvolgono e io non so dire quante persone sono coinvolte nell'organizzazione ma se penso anche solo a quelli che devono segnalare il percorso e chi si preoccupa dei ristori, della vendita delle magliette di una cosa e dell'altra non so dire quanti saranno ma sicuramente almeno una cinquantina di persone penso che siano coinvolte nella preparazione, nell'organizzazione, nella realizzazione e poi bisogna dare anche merito a tutti coloro che sponsorizzano questa camminata perché sono diversi della Val del Riso ma non solo, che danno il loro contributo a volte economico, a volte materiale, proprio per il buon esito perciò un grazie a tutti coloro che concorrono nella buona riuscita di questa manifestazione ecco io vorrei dire anche partiamo alle ore 14 da Piazza Riso per chi fosse interessato alle ore 14 da Piazza Riso e poi lungo il cammino facciamo anche un po' di scena perché vogliamo dare un po' di entusiasmo alla cosa e allora ci saranno in alcuni punti quelli che segneranno come si dice il passaggio dei vari partecipanti verrà segnato sul pettorale, poi ci saranno i vari punti di ristoro perciò è una giornata un po' di festa, di condivisione che poi avrà il suo beneficio appunto per questo progetto, confidiamo anche nel bel tempo ma in ogni caso anche se ci fosse, anche se dovesse nevicare, piovere come ultimamente il tempo ci sta abituando, noi la facciamo lo stesso perché è lo spirito che ci anima in queste cose, non è tanto le cose esteriori è lo spirito nostro che ci fa fare queste cose proprio per una buona manifestazione di condivisione e di missionarietà, di carità